Grazie a tutti La classifica andremo a premiare anche i primi tre atleti per categoria Ancora un giro per tutti gli atleti che stanno passando in questo momento sotto lo striscione dell'arrivo Un giro per loro, dieci minuti e sempre il passaggio di questi atleti Per loro ancora un giro completo con il passaggio di Giulio Allè, allè, allè Allè, grandi Vai Antonio Abbiamo detto quasi 400 iscritti a questa gara Vai Mario Allè, allè, bravo Allè, grandiose Bravo, alto, bravo Allè, Antonio E poi a metà giorno Tutta una serie di gara che si avvicinano Ai miei sottieni Quindi ai ragazzini più piccoli E poi a partire dalle 12.45 gara E poi a partire dalle 12.45 gara E poi a partire dalle 12.45 gara Vai Claudio Se volete potete anche il ristorante qui Ricordo che ha già aperto il nostro bar Come potete ricocillare un buon caffè Qualcosa da mangiare Vai Beppe L'86esima edizione della Cinque Allè Omar, allè Viene qua Forza, forza Vieni qua a filmare Un sorriso per la stampa È anche bello il sorriso Vallo fresco, diciamo Un gelato No, oggi no Dai, dai Ciao Forza Giuseppe No